Un'altra auto data alle fiamme a Corigliano Rossano, stavolta allo scalo su Via Nazionale, un Alfa Romeo 156, e sono 31 dall'inizio dell'anno. Sul posto i vigili del fuoco non hanno individuato alcun innesco, ma non si esclude che le fiamme possano avere origini dolose. Intanto si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, col prefetto di Cosenza Vittoria Aciaramella, il procuratore della Repubblica di Castrovillari Alessandro D'Alessio e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, allargato al Consiglio Comunale. Su questa vera e propria escalation di violenze, a Corigliano Rossano è stata approvata una risoluzione anche del Consiglio regionale. La terza città della Calabria da mesi ormai è al centro di troppi episodi criminali che hanno turbato la tranquillità della comunità. L'Assemblea regionale, nella seduta di lunedì, ha approvato una mozione in cui assume l'impegno di tutelare con azioni tangibili la serenità dei cittadini, promuovendo una collaborazione tra le istituzioni e le forze dell'Ordine e di adoperarsi per intensificare il dialogo con il Ministero degli Interni. Giuseppe Graziano è preoccupato, incendi, rapine, furti, addirittura l'omicidio avvenuto all'inizio del mese di maggio e gli agguati a colpi di arma da fuoco a Cantinella e in contrada Pirro Malena. In commissione antindrangheta era stato audito Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, che raccontava della situazione complessa di queste terre dove la sicurezza dei cittadini è sottoposta alle scorribande della criminalità. Bisogna restituire a questo territorio il Tribunale, così come è naturale rinforzare l'organico di polizia dei carabinieri a livelli adeguati per una città di oltre 340 chilometri quadrati e 75 mila abitanti.